E da oggi la tempera è 3D! Questa è arte per te, arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te! Sì ragazzi, oggi sperimenteremo la tempera 3D fatta in casa per delle scritte a rilievo, scritte o disegni a rilievo. E' una tempera molto bella, molto stabile e soprattutto è una tempera molto 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 divertente da preparare. E allora basta parlare, spostiamoci di là e andiamola a fare! Ed ecco pronto l'occorrente per creare i nostri colori 3D. Un colore acrilico, lo potete sostituire anche con una tempera, però il legame sarà meno colloso, quindi non ve lo consiglio tanto. Della vinavil, del borotalco, io qui ho il felcio azzurra e poi una spuma per capelli o una qualsiasi schiuma che possa essere spuma da barba oppure sapete le spume quelle che si usano adesso come fine doccia, quelle schiume che servono un po' da crema idratante, un po' da bagnoschiuma? Ecco, potete usare anche quelle. Poi ci serviranno delle siringhe, le siringhe saranno i contenitori del nostro colore, le priveremo dell'ago e le useremo per conservare bene e non fare essiccare il nostro colore. E poi una spatolina che io non ho con me, quindi ho preso un pennello di silicone e un pennello normale per rimestere il colore. Poi ci serviranno dei piatti di plastica o dei bicchieri di plastica e un misurino ovviamente. Cominciamo subito. Allora, prendiamo una parte di vinavil, quindi io ne sto prendendo un misurino. Alla parte di vinavil aggiungiamo una parte di borotalco che servirà da inerte, quindi potete usare un qualunque inerte fine, anche il gesso di Bologna. Alcuni usano gli amidi, ma questo rende i nostri colori molto molto deperibili, perché è possibile che l'amido col tempo sviluppi qualche parassita. Mentre così siamo tranquilli che il colore rimane fermo, così come lo stiamo creando. Quindi adesso dobbiamo mettere due parti di schiuma. Quindi scuotiamo. E quando si dice due parti, voi dovete riempirlo, ma lui va da solo, diciamo così. Ok, due noci di schiuma. Incorporiamo piano piano il tutto senza fare smontare la schiuma. E adesso incorporiamo il nostro colore. Io ho scelto un bel verde. Qui la quantità la decide l'intensità del colore che vogliamo creare. In pratica la schiuma servirà per tenere in sospensione sia la polvere che il colore e creare appunto questo film gommoso, che creerà poi in realtà la Vinavil, in cui rimarranno intrappolate sia l'aerosità della schiuma che le polveri, così che rimarranno un po' sospese in aria. Ok, il nostro colore è pronto. Inseriamolo all'interno di una siringa. Ora proviamo il nostro colore. Carichiamo la nostra siringa. Allora, proviamoli su carta. Usando così la siringa come si userebbe una penna, più o meno. E mano a mano schiacciamo, quindi facciamo un bel cuoricino, che ne dite? Ma, oltre, vedete che bello, guardate che bello. Non lo voglio muovere tanto perché ho paura che scivoli, la carta non è troppo spessa. Guardate com'è, bello 3D. Ora dobbiamo aspettare che asciughi. Oppure, per esempio, su un jeans, in cui dentro il taschino ho messo un cartoncino, perché qui avevo disegnato senza cartoncino e il disegno viene un po' mosso, posso provare, magari, a fare un iniziale. Poi, volendo, se non siete sicuri con lo stecchino, potete sistemare... Se non siete sicuri con la siringa, potete dare una sistemata con uno stuzzicadenti. Ok, lasciamola asciugare e vediamo questa E sul taschino come diventerà. Ed eccoci ad asciugatura avvenuta. Guardate la E su stoffa che bella, tridimensionale, ha mantenuto la sua gommosità e la sua escrescenza dal tessuto. Poi, guardate sulla carta sottile, anche qui, vedete che è 3D? Ecco qua, vedete? Voilà. E poi mi sono dilettata, ho fatto su una carta un po' più pesante e naturalmente sulle carte più pesante viene ancora meglio. E poi ho provato anche su una plastica. Guardate questo cuoricino, questo non è ancora finito, ma mi dà il sentore di come sta asciugandosi. Vedete che questa parte è già asciutta e lì dove è già asciutto, tipo qui, ha fatto una piccola crepa. Perché, errore mio, non l'ho messo tutto allo stesso spessore. Se noi ci premureremo di mettere tutto allo stesso spessore, asciugherà tutto uniformemente e quindi non spaccherà. E facendolo su questo tipo di materiale, dopo potremo anche scollarlo e appiccicarlo magari sui nostri diari, come stickers, insomma, come abbellimento per elementi di scrub booking. Ho fatto asciugare completamente quella sulla plastica perché mi premeva farvi vedere questa cosa. Guardate, se io prendo un lembo e lo tiro, guardate che succede, si stacca e può essere usato come abbellimento per qualunque cosa. E vi dirò di più, questo si appiccica al vetro, cioè staccandolo da qua potete abbellire i vostri vetri senza pasticciarli. Guardate, vi faccio vedere. Eccomi qua, questo è il vetro e io attacco e voilà, rimane attaccato. E' anche bello tenace, visto? Quindi potete poi staccarlo e riappiccicarlo. Staccarlo. I vetri di casa mia proprio stanno diventando qualunque cosa. Staccarlo e riappiccicarlo. Guardate, qui c'è la farfallina fatta con gli stabilo della volta scorsa. Perché io le provo le cose, le provo prima da me e poi ve le propongo. E visto? Visto che bello questo? Possiamo fare un sacco di cose. Immaginate a Natale come possiamo abbellire i nostri vetri senza sporcarli. Perché poi basta tirare via e rimane tutto perfettamente pulito. Figata eh? Continuiamo il video va? Ecco, un colore gommoso e a rilievo per tessuti non lavabili, mi raccomando. Non credo sia lavabile, io non proverei. Ma magari per un cuscino, per un diario foderato in jeans, per un bel libro, una copertina in stoffa, bellissimo. Potete usarlo anche con gli stencil. Divertitevi, sperimentate e ditemi cosa farete. Io sono qui a vedere tutti i vostri lavori. Ora vi lascio le foto e poi andiamo di là. Che ho ancora due cosine da dirvi. E mi raccomando, un bel pollice in su se il video ti è piaciuto. Possibilmente in 3D. E mi raccomando, un bel pollice in su se il video. Visto che bella la nostra tempera 3D e che belli effetti, mi raccomando, preparatevi le vostre silingate di allegria e scrivete dove volete. Zaini, jeans, cuscini, diari, insomma. Fate quello che vi pare, basta che lo facciate con creatività. E allora, non mi rimane che dirvi, se il video ti è piaciuto, mi raccomando, disegnami un bel pollice in su in 3D. E soprattutto condividi questo video sulla tua pagina Facebook. Io ti aspetto sempre sulla mia pagina Facebook, di cui trovi il link qua sotto nel box informazioni. E sui miei altri canali, ombretta e due cuore una cappa, trovi il link qua sotto. Qui sotto trovi anche la playlist di come fare tutti i colori, la tempera, l'acquerello, anche quelli più classici, i colori ad olio, per divertirti a casa con la creatività e l'arte homemade artigianale. Basta parlare, non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da ombretta e da arte per te è tutto, alla prossima, ciao!